Una ciotola, una frusta e senza bilancia Le uova sono quelle delle nostre galline Quando le uova hanno fatto una leggera spuma metto yogurt bianco Zucchero Mi raccomando, mescolate bene Farina e lievito stacciati Mescolare bene per non fare maniare i grumi Olio di semi, che preferite Mirtiglia go go, li laviamo bene Li asciughiamo con la carta assorbente E poi li mettiamo nella torta Dritto in forno